E' subito balzato con il suo libro alla testa delle classifiche. E' appunto il coattore, il nuovo elemento della nuova compia del nostro firmamento letterario, conoscete tutti, il giornalista della Repubblica, scrittore bravissimo, connavolo anche con noi, questo è il suo merito principale. Grazie a Maurizio che con me ha affrontato questo viaggio in maniera entusiasmante, perché è stato un viaggio entusiasmante, veder nascere quello che abbiamo fatto davanti, poi grazie a chi vicino a me mi ha aiutato, mi ha ispirato. Sì, la verità principale è proprio per i miei figli, quindi chiaramente c'è la speranza, che loro possono in qualche modo né emularmi né seguirmi, ma vivere con passione quelli che sanno i loro obiettivi. Giocarti la finale, quella di vincita sulla Spagna, quella sulla Francia, c'è... Arrivati d'ora e io durante il tragitto mi sono detto ma sì, Daniel, tanto ci sanno solo 2-3 miliardi di persone che ti stanno guardando, cosa vuole che capiti? Anche se lo sbagli, no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.